Non ci credo, ragazzi il minaccio digitale è in prima persona Sei serio? Sì, la minaccia sì Ma vaffanculo Che idioti cazzo Vabbè no, ma perché poi è per forza, scusa, ti serve, cioè Come fa a funzionare se no? Ah, è vero Però è troppo facile Secondo me Ma la smetti di andare a quelle tre casse Tornare dopo in prima persona sarà Può essere Vabbè, doppia carabina Quanto sarà uno sbocco la wingman in questa modalità? Basta andare a tre casse e doppia carabina No, prendi la mia è più bella È blu Dove è una carabina, Nico? Uh-huh Troppo l'R99 Se vuoi Oh, hanno appena tirato giu il drop, eh Basta che non ha la tua skin di merda Dov'è la corazza blu? Ovvio che è Bellissima la mia skin Ma scusa, almeno ora che poi non oserei tigre delle nevi Che fa cagare Ma non cagare Gente lì? Che sta? Un nemico individuato Ah, mi sta curando Gli ho rotto la corazza? Eh, gli ho fatto 43 io Ah, sono due Uno è andato sul tetto, uno è entrato Chi prendiamo per primo? E uno è andato sul tank Quello sul tetto perché mi sta sparando Mi ha rotto il cazzo Ah, bene È inutilizzabile la wingman È inutilizzabile Io sono sul tetto dall'altro lato Mi puscia uno, mi puscia uno Oh, ma questo dove c'è? Mi pusciano due Mi starete e ti pusciano, ti piacerebbe Stanno sparando I need help Sono a terra Ho fatto una lifetime che era full Manca solo il path Che non l'ho colpito però Ma Che OP Aia Tripla di laser beam Quanti giorni ho ancora Per shoppare la skin di Octane? Poco Sto ricaricando gli scopi Ah Mi sa che stanotte però No Oh cazzo Era una settimana totale Quindi che giorno siamo noi? Sabato Ma perché non hanno messo scusate Il puntatore al centro? Ma infatti quando lutto io Vado di puntatore Ma Cioè io No tipo Con la wingman Con la wingman Come faccio a sparare Se ho un mirino Che è grosso 5 centimetri Non ho il puntino al centro Come cazzo ci sparo? Così a occhio Pedana 45 al volo Sono qua a fight Da me fight Da me fight In due Ha preso la corazza No I need help Dobbiamo andare insieme E ce le vanno Vaffanculo Ho l'ultimo Ho l'ultimo Ho l'ultimo E Sta lutando qua E rip Qua era uno E qua era uno Fatto l'octane Tranquillo ci sono io Era senza carazzo No Un cielo È morto È l'octane L'ho ucciso Io voglio prendere I peacekeeper Dove cazzo è Due pk In queste due cazzo Gente è qua Può andare un po' più a destra Che volete Oh cazzo Ma non ho Oh no no Vi lascio un portal Mi son cagato addosso Ho preso il portale Ho visto una sagoma Era la mia Vabbè Una C'è un nemico Di Fianca Mi sto riparando È una siringa Nico Io te l'ho lasciato A un naziale presa Eh una era Eh Ne ho tre Ci sta mettendo troppo Sto riparando I miei danni No foda Dove stai andando Da nemici Non andiamo da qui Dì ma sono due azioni Dobbiamo andare a sinistra Subito Ti ci ricongiungemo Cori ragazzo Lagiù Tantara 45 secondi Potremmo camminare con calma Madonna Che cazzo è Con Radius Ma hai visti qua Ho visto qualcuno E non penso Sì Però dati baggare Che cagare Prestano 30 secondi L'anello è vicino Prova prova Oh perché non cadi Perché mi muovo No devi cadere Iepà Usciamo Qua c'è una cassa della morte E questi stanno qua Si devono curare A sinistra pure A sinistra A sinistra A destra Qua 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 È viola È one shot È quello dietro però Ci siamo ci siamo Vai manca l'ultimo È qua dietro L'ultimo È qua dietro Non è morta È morta È morta Demo come mi curo io Devo ricaricare Lasciami la conazza Ehm Ditela Faccio l'altra io Eh ma non ho cure Sto ricaricando Non ne aveva lui Eh in modo di salutare Mi stanno mirando Ah Da dove A nord est Ragazzi qua c'è un botto di gente Che sta per arrivare Io devo fugare Vai 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 Chi sono Fugo 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 E rido Eh li vedo qua Li vedo qua Laserato 105 Li ho fatto eh Qua dietro Dietro al contene A questo A questo Quello più vicino a te Ok Eh no no Scappo scappo Tranquillo Giure in giure Ok io scappo Qua Ci sono Fatto 42 Blu a 1 Ci siete? Rosso Lotti Non ci vedo un cazzo Vagalo dietro il giallo Ne abbiamo Gg Che bella sta mod No a me non hanno dato un hit Cheat A me non hanno dato un hit Ce li ho davanti Mi pushano in due A 1 Fatto 161 Quasi rotta l'armor Madonna Ma Il pacekeeper Come Voglio risentire la pronuncia Pisskeeper Sì italianizziamo tutto Pisschipà Pisschipà Comunque tanta roba il troll Non ci credo Ragazzi il minaccio digitale In prima persona Sei serio Sì La minaccia sì Ma vaffanculo Che idioti Che idioti Cazzo Cioè qua cazzo si fa a dimenticarsi Di un'ottica Vabbè no ma perché poi è per forza Scusa ti serve Cioè Come fa a funzionare Se no Però è troppo facile No non è facile Io ci ho provato Cioè se non la metti Se non la metti Ma sì No secondo me è facile Ora vediamo No quando poi togli la mira e rimiri Togli la mira e rimiri Come fa Eh no è che in effetti Cioè se metti in un zoom normale Che cazzo serve Poi Però vabbè Ah no l'ho distrutto L'ho distrutto Andiamo Uno solo Ah no c'è un altro team Fat one quasi È viola la wraith sopra Io ho pushato Eh vai pusha Uno è entrato ho sentito appena ora la porta No è ingiocabile col minaccia Seba Eh l'ho detto Il fanculo Carica il bello È arrivato fatto Guarda Zandra Cattivissima In scivolata C'è un altro patch sotto Ci sei? Eh no Fatti tutti no Se ti dico che c'è Se ti dico che c'è c'è Eh lo so lo so lo so Io l'ho detto che serviva la mia mano Nice Eh la prima infatti Oh è divertente però Eh non è male vedi Devi prenderla a mano Devi prenderla a mano Questo è da canale? Se non escono i migliori nella terza Ciao YouTube Ciao YouTube